I carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito stamattina 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti pregiudicati. Tutti esponenti di spicco del clan dei Casalesi, ritenuti responsabili a vario titolo di un duplice omicidio di camorra avvenuto a Santa Maria Capuavetere nel 2003, otto anni fa. Le indagini coordinate dalla procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, sono state eseguite dai militari della compagnia della cittadina campana e hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'assassinio di Sebastiano Caterino e di un suo accompagnatore. Tra gli arrestati figurano gli organizzatori, i mandanti e gli esecutori materiali di quell'omicidio rimasto fino ad ora irrisolto. Tra gli arrestati figurano gli organizzatori, i mandanti e gli arrestati figurano gli organizzatori, i mandanti e gli arrestati figurano gli organizzatori.